buongiorno buongiorno dal dottor claudio sarascino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera professionale con la v maiuscola oggi rispondo ad una signora della slovenia la quale mi scrive testualmente dottore come faccio a far smettere di bere mio figlio da parecchi anni non ne vuole sapere lavora però non riesco a convincerlo ad andare da nessuna parte non vuole aiuto non ne vuole sapere siamo disperati io e mio marito ho visto dei video mi chiedevo cosa possiamo fare io le ho consigliato calorosamente perché non vendo nulla perché ho ceduto tutti i miei diritti e la mia associazione ipnoleggio associati los angeles mavin hills la audi mp3 di cs dal titolo no alcol no alcol che funziona anche per chi non vuole per chi non può essere ipnotizzato aiutato è l'unico metodo di cs l'ipnosi di cs vera professionale la v maiuscola unico al mondo che può fare queste cose perché non esiste nessun'altra forma di ipnosi né verbale né non verbale che possa aiutare concretamente a livello duraturo una persona che ha un problema te lo dico con il cuore in mano perché io tanti e tanti anni fa prima del 2008 sono stato un ipnotizzatore autodidatta ho miscelato tutte le tecniche di questa terra a livello internazionale ipnotizzato sulla spiaggia 10 20 persone alla volta per le strade nei ristoranti nei miei uffici in tutto il mondo però ti posso garantire che il metodo di ipnosi vera professionale di los angeles baby risa la dottoressa rina pruni e il professor dottor miglior angiel garai su cui ho fondato il mio metodo di cs il dottore claudio saracino con più di 12 anni personalmente che mi ipnotizzo h24 anche adesso sono ipnotizzato anche se a te esedicenti esperti di ipnosi non sembra e non lo dico per vantarmi lo dico per ispirarti perché se non ti costa nulla non ti ruba tempo il mio metodo di cs non ti fa spendere una montagna di soldi perché no non ha nessun effetto indesiderato lascia stare i guru bla bla che parlano di effetti secondari non è vero nulla io ho aiutato centinaia di persone in tutte le casistiche esistenti da mia madre cardiopatica mio padre che anche adesso prendo un sacco di medicinali mia madre attenzione però si ipnotizza anche lei seguendo le istruzioni del mio metodo di cs così mio padre colpito da ictus prendeva le sue medicine perché non devi mai togliere le medicine del tuo medico devi sempre comunque andare dal tuo medico dallo specialista della salute in qualsiasi parte del mondo in cui abiti attenzione l'ipnosi è un'integrazione se nessuno ha nulla in contrario ok mi raccomando perché nel sottoscritto negli associati nell'editore anche se contiamo nella nostra associazione i prolegi associati di los angeles baby hills medici e psicoterapeuti di caratura internazionale noi non facciamo diagnosi né cure né terapie questo è fondamentale ma mettere delle parole create ad arte ad hoc per eliminare il tuo problema perché no invece di tenere persone accanto negative o televisioni o cellulari o informazioni e paura otg paura perché non mettere questo potente audio mp3 dcs che ti può cambiare la vita quindi se tu hai un tuo caro che non vuole essere aiutato che sta magari nell'alcol eccetera eccetera scaricati questo potente audio mp3 dcs dal titolo no alcohol che trovi comodamente sul sito dell'associazione i prolegi associati da qualsiasi parte del mondo a qualsiasi ora e meravigliati del potere della tua mente segui le istruzioni molto facili alla prova di un nonno alla prova di un idiota alla prova di un pigro e liberati da queste catene e poi ci aspettiamo anche in forma anonima perché capiamo la tua riservatezza una testimonianza o una video testimonianza magari eliminando la testa d'accordo per non farti conoscere anche di spalle fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi autoipnosi del dottor claudio saracino iscriviti su questo canale youtube benessere ipnosi soluzione dcs del dottor claudio saracino e fa share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi anche sui altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione dcs del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico mio amica mia alla prossima ciao 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 ciao